Senza offesa, pa, forse nei tuoi ricordi il tuo tiro era fico, ma in realtà non è fico quanto tu. Cosa? Come diamine hai fatto? Ehi Molly, guarda bene chi è il migliore. Ho qualche trucco da insegnare. Non c'è pallo in cui cadere. Ho tutte le risposte e puoi domandare. Ti faccio a scuola, guarda ora. Tutti ti vorranno e squadra allora. Quando giocherai all style, ricorda il genio che ora osserverai. Tocca, ruota, gira e molla il trucco e nel polso poi passa a palla. Tocca, ruota, gira e molla il trucco e nel polso poi passa a palla. Posso far come fai tu e imitarti sempre più. Basterà soltanto che mi attenga quello che fai tu. Quello che mi insegni tu mi migliora sempre più. Basterà soltanto che mi attenga quello che fai tu. È giusto papà? Ora faccio tocca, ruota, gira e molla perché il segreto è nel polso, giusto? Balla! Tocca, ruota, gira e molla perché il segreto è nel polso. Ok ma comunque non mi va. Dai provaci Molly se posso farlo io. Lo so papà, posso anch'io. Tocca, ruota, gira e molla il trucco e nel polso poi passa a palla. Tocca, ruota, gira e molla il trucco e nel polso così. La palla! Tocca, ruota, gira e molla il trucco e nel polso poi passa a palla. Tocca, ruota, gira e molla il trucco e nel polso così. Il kickball è carino se non sei una schiappa. Visto? Ho il permesso di fare il papà? Ok ma in fretta? Mi stai piangendo nelle orecchie! Ok ma in fretta?